Tu devi essere il nuovo guardiano notturno. Negli anni 80 sparirono dei ragazzini. Per quello il posto chiuse. Perché lei è qui? Non sapevo a chi affidarla. Cosa dovrebbe spaventarmi? Loro. Che cosa vogliono da mia sorella? Vogliono che le diventi come loro. Posso andare a casa? Abby, corri! Grazie.